È sempre nei miei pensieri. È come un malattia. È come un incantesimo. Che mi è tratta dentro per sempre. Come se fosse il sangue che circola e che mi tiene in vita. Barbara sta cercando di evitarmi. Perché stai scappando? Ha paura. Di cosa hai paura? Mi sento sola. Barbara. Sei entrato nella mia vita come un ciclone. Hai distrutto tutte le mie certezze. La verità è che ti sei perdutamente innamorato di quella donna. Forse sì. Ma Barbara, mi vuole bene da quando erano bambini. Sono innamorata che non lo trovo. Ma quello che mi fa più rabbia è che tutte le volte che la vedo, ce le casco. Io ti amo, Barbara. E non ce la faccio senza le te. Devi rinunciare a me, Thomas. Sono stanca di dover essere sempre forte. L'unica mia speranza era, Thomas, per te una nuova messa. Ti lascerò solo un solo momento. Barbara, Barbara, che succede? Esisti solo tu per me. Ho bisogno di te per tutta la vita. Per tutta la vita. per loro davanti. Are you with me? Are you? Grazie per la visione!